vedi se la alzi di più col davanti la tira dentro in automatico e fa che non l'ha alzata tira più sulla costa che dopo va dentro da sola e mica sempre viene poi adesso me l'ha pastrugnata lui in quarta ero in quarta ero vedi perché ha detto che era pastosa era in quarta cazzo sono rimasto anche in quarta cioè in quarta ero ha fatto tutto in quarta la fatta fare in quarta cazzo andiamo 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 e 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 Qua era un passacchino? Ha fatto bene quello lì